Quindi z0, noi abbiamo la nostra formula, abbiamo detto che c è uguale a k logaritmo al quadrato, 1 su k, anzi logaritmo al quadrato, z meno z0 diviso zd. Questo è il mio piano. È una superficie piana che voi dovete immaginare è infinitamente estesa ortogonalmente al foglio. Il mio campo di velocità come sarà? Beh, avrò uno strato che sarà più piccolo di quello che sto disegnando adesso, in cui il profilo di velocità cresce linearmente. Questo è lo strato viscoso. Poi qui ci sarà uno strato intermedio di transizione. Poi sopra il profilo di velocità, adesso qua la penna mi tradisce, il profilo di velocità va in questo modo. E di solito viene rappresentato con dei vettori che crescono così. Questo appunto è il profilo di velocità che viene descritto da questo coefficiente c, dove poi eventualmente ci possiamo mettere o non mettere la velocità media a seconda di come formuliamo il coefficiente. Io di solito lo lascio fuori. Ora, ZD è legato alle micro... Questo ZD è un termine che è legato a che cosa? Come vede qui, in questo piano, sulla verticale è perfettamente omogeneo. Diventa disomogeneo se io ci metto degli oggetti in mezzo. Per esempio una pianta. O per esempio un insieme di piante. Ok. Rispetto a prima, che cosa c'è? Beh, adesso intanto non sappiamo più bene che cos'è il Viscov Sublayer. Ma supponiamo che il Viscov... Anzi, lasciatemi cancellare queste... E rifare il disegno. Se noi abbiamo sempre il nostro piano... E adesso ci mettiamo sopra le nostre piantine. Ma come sarà la velocità del vento fino a livello delle piante? Beh, anche qui... Soprattutto se sono tutte piante qua... Magari di forma diversa. E facciamo venire il vento da questa direzione. Non sappiamo più bene che cos'è il Viscov Sublayer. Qua dentro le piante succederà qualcosa. L'altezza delle piante... Questo D... Mi dà un'indicazione... Della scabrezza del mio mezzo. Se io... Cioè che io veda o non veda... Le piante... E... Supponete adesso che io le disegni... In modo diverso. Le mie piante potrebbero essere così, d'accordo? Rispetto al problema che ho fatto prima. Le piante danno... Indicano... Identifichano una scala comunque... Del mio moto. Se io avessi guardato con il microscopio qui... Avrei visto delle scabrezze anche qui... Per quanto liscia fosse la mia parete. Allora questo... Le scabrezze... Cioè tutti questi discorsi che io ho fatto all'inizio qui... Sono legati ad una scala specifica. E sono legati alla scala delle scabrezze. ZD rappresenta la scala delle scabrezze. La scala vuol dire quanto grandi sono le scabrezze. E in effetti la mia misura... Non dico che io ho... La mia velocità è logaritmo di z meno z0. Ma dico che è logaritmo di z meno z0 diviso zD. Che fa da unità di riferimento. Da termine di riferimento. È il rapporto z su zD che conta. E a sua volta anche il rapporto z0 su zD. E questo rapporto che conta non la quota in senso assoluto. Dal punto di vista della ricetta... Vi ho detto zD uguale a 0,7... L'altezza della vegetazione. ZD è uguale a 7 metri. Se invece ha a che fare con l'erba. Z vegetazione è uguale a 10 centimetri. ZD è uguale a 7 centimetri. Cioè 100 volte più piccola. Ciò nonostante una volta che abbia messo le lenti in maniera opportuna ho sempre un andamento di questo tipo. Poi il profilo logaritmico è pensato partire non da 0 ma da un livello di... Anzi, sì. Qui vi ho detto una cosa sbagliata. Questo non è 0,7 ma 0,1. Quindi questo un metro, un centimetro. È pensato partire da un livello di superiore al livello della vegetazione. Beh, non superiore al livello della vegetazione. Un certo livello qua intermedio perché il profilo logaritmico non può partire da 0. E questo Z con 0 di solito si prende come 0,7 l'altezza della vegetazione. Questa è una brutta, sporca ricetta che serve per ottenere numeri ma non è una legge dell'universo. Non è come la costante di Planck, voglio dire. È una ricetta per avere un ordine di grandezza. Non so se ho chiarito i suoi dubbi. Sì, ok. Capito tutto. Benissimo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.